Ciao a tutti, benvenuti su Cosmo Channel. Finalmente sono riuscito a mettere mani su questa macchina. Di che macchina stiamo parlando? Stiamo parlando della Aufero, marca Ortur, laser 2, la versione 2. Non ho mai provato la versione 1, non l'ho mai trovata così interessante, però finalmente sono riuscito a mettere le mani su questa macchina, la versione 2, perché a quanto pare è una macchina fenomenale, ne parlano tutti bene, tutti hanno questa macchina e io non ce l'avevo, quindi l'ho voluta provare. Come per ogni mia recensione, proverò la potenza ottica reale di questo modulo laser. Il modulo laser che mi hanno inviato con questa macchina è la LU2 tratto 4 Long Focus, quindi una messa a fuoco un po' più lunga. La differenza di versione tra LF ed SF sta nella dimensione del punto di fuoco. La versione a fuoco lungo ha un punto di messa a fuoco leggermente più largo rispetto alla versione a fuoco stretto. Le dimensioni del punto di fuoco della versione a fuoco lungo è di 0,17x0,25, mentre nella versione a fuoco stretto, quindi short focus, le dimensioni del punto di fuoco sono leggermente più piccole e di 0,12x0,15 mm. Come avete visto i due punti sono differenti. La versione con fuoco lungo è ottimo per il taglio, meno per l'incisione, mentre la versione a fuoco corto invece è ottima per l'incisione. Io che adoro tagliare il legno con i laser ho preferito la versione a fuoco lungo. Tutta la macchina si monta in circa 30 minuti, è veramente molto semplice, ci sono soltanto due misure di viti quindi non ci possiamo sbagliare. Sul manuale cartaceo che trovate all'interno della confezione non c'è la procedura di montaggio ma c'è un QR code che bisogna scansionare per andare a vedere il video di montaggio oppure il manuale di montaggio. Veramente veramente molto semplice comunque montarlo. Tra l'altro anche su youtube si trovano un sacco di tutorial sul montaggio. Anche la Ortur ha creato un tutorial su youtube su come montarlo quindi state tranquilli. La struttura è completamente in alluminio con una scala metrica serigrafata sui profili. Si trova sia sul profilo dell'asse X che sul profilo dell'asse Y e va da 0 centimetri fino a 40 centimetri. Utilizza le classiche cinghie trapeziodali per effettuare i movimenti con un singolo stepper per l'asse X mentre per l'asse Y ha ben due stepper. Il sistema per tensionare le cinghie è veramente molto molto comodo e anche molto veloce. Utilizza una vitina da stringere a mano delle giuste dimensioni anche per le mie di tona. Fate molta attenzione attendere le cinghie dell'asse Y in modo uguale. Quindi cercate di capire magari dal suono delle cinghie se sono tensionate tutte e due ugualmente. Se una cinghia è meno tensionata rispetto all'altra potrebbe creare delle oscillazioni su quell'asse che non fanno bene all'incisione. Questo è il controller. ha due led uno per indicare l'accensione mentre l'altro indica la connessione avvenuta con il computer. Ha una porta per l'alimentazione a 24 volt 2 ampere quindi mi raccomando non utilizzate un alimentatore diverso rispetto a quello fornito perché questo è a 24 volt. L'ingresso per la porta usb. un ingresso per un controller offline che generalmente Orthur vende sempre a parte. È abbastanza utile però se voi volete collegare il controller sempre al computer potete anche non acquistarlo. Poi ha due pulsanti uno per il reset e l'altro per l'accensione. Mi raccomando tenetelo premuto per almeno 5 secondi per accendere la macchina. L'area di incisione è di 390 x 390 mm quindi una buona area per fare tutto quello che vogliamo. Utilizza l'ultimo firmware della Orthur l'1.8. Orthur preferisce installare dei firmware proprietari rispetto al classico firmware GRBL. Comunque è un firmware sempre basato su GRBL. Ha una scheda madre ESP32 di nona generazione con un processore e un chip molto veloce 240 MHz più che sufficienti per una macchina del genere. Questa velocità serve anche per gestire le varie sicurezze che ha questa macchina. Ha una protezione attiva della posizione tramite un sensore chiamato G-Shock che se rileva un'angolazione del laser errata lo spegne rendendolo molto sicuro. Ha un controllo attivo della connessione che interrompe l'incisione se il pc è disconnesso o se si arresta in modo anonomalo. Magari come succede a me spesso che mi scordo di collegarlo alla rete elettrica e si scarica la batteria. Ha una protezione sulla limitazione dell'esposizione cioè quindi spegne il laser se non c'è movimento per lungo tempo. E su questo vi dico subito che per fare la prova della potenza laser ho dovuto disconnettere gli stepper perché non ho un generatore pvm da 24 volt ma solo da 12 quindi ho dovuto creare un file incisione a una potenza del 100% scollegando appunto gli assi per non far muovere gli assi e il laser non si è spento lo vedrete nel test della potenza che comunque il laser ha funzionato ed è stato anche per parecchi secondi acceso a una potenza del 100% quindi non lo so se funziona tanto bene questa protezione mentre per quanto riguarda le altre l'ho provato e funzionano perfettamente. Ha un sistema di protezione sull'alimentazione quindi se non riceve il giusto range di alimentazione non fa avviare la macchina o comunque va in protezione il range di alimentazione va dai 21 ai 27 volt ma noi usiamo il suo alimentatore e stiamo tranquilli. Come ho già detto prima il laser che monta la mia offero 2 è la versione l u2 tratto 4 tratto lf che sta per long focus che lavora a 24 volt ha una potenza compresa tra i 4500 miliampere e i 5500 miliampere e su questo avrei dei dubbi lo vedete dopo. Come ho detto prima un punto di messa a fuoco di 0,17 x 0,25 è un laser fatto apposta per tagliare non pretendiamo una nitidezza esagerata come altri moduli laser però se ci serve principalmente per tagliare allora questo fa per noi. Nel kit della macchina con il modulo laser mi è arrivato anche il sistema dell'air assist quindi un ugello che va montato al posto di questo cono che simula una specie di air assist sulla lente del laser con un tubicino che si collega poi al mio compressore Ortur consiglia un compressore da almeno 40 litri al minuto io utilizzo un compressore da 60 litri al minuto quindi vado tranquillo vi lascio naturalmente il link descrizione di quello che utilizzo io e tante altre persone. Adesso non ci resta che provare la potenza reale di questo modulo laser e poi andare a provare con il mio classico test come si comporta con l'incisione e con il taglio. E vediamo la prova della potenza ottica reale. Vi ricordo che la potenza di questo laser ha un range che va dai 4,5 ai 5,5 watt. È un range abbastanza grosso comunque vediamo. Si parte. Siamo a 4 watt ha superato i 4,5 watt ma i 5 non li toccherà sicuramente. Siamo a 4,62. 4,63 penso che non vada oltre. 4,64 massimo quindi boh una potenza non tanto potente quindi niente 4,63 4,64 massimo questa è la potenza ottica reale della versione LU2 tratto 4 tratto LF. vediamo subito il risultato allora questo non l'ha tagliato strano questo neanche si un pochettino questo si e questo si probabilmente in questa zona c'è un po' di colla in più devo dire che questi pannelli non so perché in questa zona hanno sempre qualcosa che non va perché avrebbe dovuto tranquillamente tagliare non l'ha tagliato strano veramente molto molto strano allora quello che penso di questa incisione partiamo dal taglio allora innanzitutto sto notando che i cerchi non sono perfetti ma sono ovali questo è dovuto probabilmente a qualche cuscinetto ovale quindi me li dovrò controllare tutti quanti e mi dovrò controllare anche le cinghie perché magari le cinghie sono poco tirate anche se sì 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 ecco qua sto guardando in questo momento non ho controllato bene la cinghia dell'asse X ed è poco tirata quindi probabilmente i cerchi ovali sono dovuti a questa cinghia poco tirata strano l'ho controllata prima e mi sembrava buona comunque vabbè tirando questo probabilmente si risolve il problema comunque per quanto riguarda il taglio ha tagliato a quasi tutte le potenze questo lasciamolo perde non so perché non l'ha tagliato probabilmente c'è un problema nel pannello due passaggi naturalmente ha tagliato guardiamo invece l'incisione della scritta e anche nell'incisione delle scritte sto notando degli errori dovuti probabilmente alla cinghia poco tirata e niente sembra abbastanza nitido la linea è molto fina quello che non mi sta piacendo è che praticamente l'incisione risulta sporca nonostante avessi usato l'air assist dell'aufero quello originale ma sembra di non aver utilizzato l'air assist sono sporche sono anche piene di fuligine quindi non lo so non lo so devo controllare il sistema air assist perché non non mi convince guardate questa parte come sporca comunque vediamo l'incisione ad alta velocità alta velocità insomma 1500 mm al minuto è avvenuta perfettamente anche 50% magari un po' poco già dal 70% in su iniziamo a ragionare a 800 mm al minuto ha anche inciso molto bene a tutte le potenze probabilmente con una velocità di 800 mm al minuto una potenza di 55% abbiamo un risultato ottimo nell'incisione a 600 mm al minuto ha bruciato un po' troppo effettivamente si va troppo piano per incidere vediamo invece l'incisione di un'immagine ha scavato nella parte nera quindi è proprio scavato vuol dire che la gestione della potenza è perfetta abbastanza nitida le linee si vedono poco i puntini soprattutto si vedono poco vuol dire che comunque è un'ottima macchina per l'incisione adesso andiamo a tagliare qualche spessore molto molto spesso vediamo con questo pannello di multistrato da 8 mm e 2 iniziamo con una velocità di 150 mm al minuto una potenza del 90% con facciamo tre passaggi come vedete il cerchio è perfetto ho stretto la cinghia e quindi problema risolto vediamo un po' no non ha tagliato per niente e non ci è andato neanche vicino proviamo da questo lato scendiamo a 100 mm al minuto quattro passaggi pare che abbia tagliato forse un passaggio in più anche se comunque ha bruciato abbastanza guardate un po' come ha bruciato guardate un po' come un po' come un po' come un po' come un po' a ed eccoci giunti alle conclusioni come avete visto la prova del taglio dell'incisione non è andata male ripeto è un laser più da taglio che da incisione se volete incidere magari andate su modelli diversi di marche diverse questo non lo vedo molto propenso all'incisione però riguardo il taglio lo vedo veramente molto potente nonostante la sua potenza sia di soli 4,5 watt all'incirca è riuscito a tagliare tranquillamente a una potenza dell'80% con una velocità di 150 mm al minuto veramente ha tagliato benissimo è riuscito a tagliare a differenza di altri laser che sono più propensi all'incisione un pannello di multistrato difficilissimo da tagliare da 15 mm l'ha tagliato in 10 passaggi con una potenza del 90% e una velocità se non ricordo male di 100 mm al minuto quindi anzi no 200 mm al minuto 10 passaggi potenza 90% ora ricordo è riuscito a tagliare anche molto bene guardate devo togliere se no metto a fuoco il mio faccione ecco qua guardate come ha tagliato bene senza bruciare poi neanche tanto ho fatto altre prove ho inciso sull'acciaio come vedete questa è l'incisione sulla maniglietta in acciaio inox non è lucido quindi non si vede tantissimo l'incisione sull'acciaio inox lucido vi assicuro che si vede veramente molto bene ha inciso tranquillamente il classico biglietto da visita in alluminio eccolo qua forse ho esagerato con la velocità questa è una velocità di 1700 mm al minuto potenza 70% se fossi sceso a 1500 mm al minuto avrebbe eliminato un po più di materiale andando a generare un contrasto tra il materiale sottostante e la verniciatura comunque devo dire che ha inciso molto bene e le linee non tanto si vedono vuol dire che alla fine anche se a un punto di messa a fuoco largo si è comportato abbastanza bene ora parliamo degli aspetti positivi di questa macchina e di quelli negativi perché ci sono anche gli aspetti negativi partiamo dagli aspetti positivi è una struttura molto solida devo dire che ad alte velocità si comporta bene sono arrivato fino a 10.000 mm al minuto con una prova che ho fatto su un pezzo che non mi sto ritrovando al 100% di potenza sono velocità che non si possono utilizzare con questa macchina si possono raggiungere velocità di 10.000 millimetri al minuto ma con un laser così poco potente ce ne facciamo poco forse per incidere sulla carta non lo so comunque anche a 10.000 mm al minuto è rimasta molto stabile sarà anche perché ha un baricentro molto basso fatto positivo per velocità altissime fatto negativo perché se abbiamo un pannello molto spesso il range di salita dell'asse z è corto quindi dobbiamo necessariamente poi alzare la macchina e metterla su degli spessori mentre altre macchine che hanno un'altezza di partenza un po più alta ci danno un po più di range sull'asse z un altro aspetto positivo che mi è piaciuto tanto di questa macchina è il sistema che permette alle cinghie di essere tensionate veramente comodo una vitina che comunque si impugna molto bene anche per chi ha delle di tona come le mie mentre sul tensionamento della cinghia dell'asse x potrebbero fare qualcosa di diverso mettere una rotellina per tenderla ma hanno preferito mettere un bulloncino che va svitato è una placchetta in metallo che si sposta avanti e dietro per tensionarla non è molto comodo tensionare con questo sistema però va bene si fa una volta ogni tanto fate attenzione appena acquistate la macchina a tensionare bene tutte le cinghie io inizialmente avevo guardato un pochettino mi sembrava tensionata correttamente invece non lo era e infatti si è visto nei cerchi un altro aspetto positivo è la piccola vitina messa sul modulo laser per metterlo a fuoco per farlo salire e scendere che anche se piccolina comunque messi in una posizione che ci permette di acchiapparla per bene quindi va bene forse io l'avrei fatta leggermente più lunga per essere acchiappata ancora meglio il sistema air assist funziona funziona molto bene per il taglio forse per l'incisione non mi ha convinto tanto non lo so non ha lasciato l'incisione abbastanza sporca come se non ci fosse l'air assist però ripeto non mi ha convinto sull'incisione invece per quanto riguarda gli aspetti negativi di questa macchina che non ha i limit switch nonostante il controller abbia dei connettori per connetterci i limit switch non li hanno montati è una macchina relativamente nuova ce li potevano montare vorrà dire che anche per questa macchina dovrò fare un upgrade montando i limit switch quindi in definitiva sul taglio gli do un bel 7 e sulla incisione magari gli do un 6 se acquistate al giusto prezzo ve la consiglio in descrizione vi lascio il link per acquistare questa macchina e sto cercando di farmi dare qualche codice sconto quindi non so se me li daranno il trovate sotto in descrizione vi ricordo di iscrivervi al canale di lasciare un like se avete qualche domanda su questa macchina fatemelo attraverso i commenti cercherò di rispondervi come cerco di rispondere a tutti quanti e niente ci vediamo al prossimo video ciao